Si sta per avvicinare alle coste del Giappone, questo importante stato formato quasi tutto da isole, un tifone chiamato tifone Karun. Sta letteralmente spaventando in un poco, ripeto, il Giappone, questo paese dell'Oriente, ci sarebbero circa 20-200 km all'ora e decine di migliaia le persone già fatte evacuare. Si starebbe avvicinando alle regioni di Okinawa, le qualità hanno invitato i residenti a evacuare le proprie abitazioni, anche perché c'è il rischio e il pericolo che questo tifone crea i danni ingenti, o meglio, ingentissimi, e possa creare la devastazione più completa e più totale che ci sia. Attenzione dunque al Giappone, dunque per colpa di questo tifone, tifone canone. Iscrivetevi, commentate, ciao da Nanato Italiano di più pubblica.